Con oltre il 50% dei consensi Nicola termina il nuovo sindaco di Cattolica Reclea, quale è il primo commento a caldo? Io ringrazio tutta Cattolica, sono felice e onorato e sarò il sindaco di tutta la popolazione, di tutta, di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato. Dobbiamo dare una svolta a questo nostro paese. A chi dedica questa vittoria? La vedico al mio padre, alla mia famiglia tutta Cattolica!